Quello po' come il presegno, quello che si mette da quel tutto. Fantastica. Allora, puoi seguire a cucinare? Allora. Cara tuata vegana, come la vede questa ricetta? Ma dai, la vedo benissimo, l'ennesima dimostrazione che tanti piatti sono già a vegana alla nascita, no? Che spesso si pensa, oddio, un ospite vegetariane vegana, che cosa preparo? Che cosa mi devo inventare? Cerco Twitter. Questa ricetta è molto semplice, molto pratica, anche molto fresca, soprattutto per l'estate, è veramente ottima. Prendi un po' d'acqua. Guarda che lo c'è, lo so bello, lo so bello, va bene, va bene anche fredda, sì, perché questo basta 15 minuti, 20 minuti massimo.